Guardi, io do un consiglio. Quest'anno il governo Renzi e Alfano hanno stanziato per l'accoglienza dei clandestini circa 3,3 miliardi di euro. 3,3 miliardi di euro per garantire vitto alloggio agli immigrati clandestini, per arricchire quelle cooperative sociali che hanno alimentato il business dell'immigrazione clandestina, che hanno mangiato e lucrato sugli immigrati clandestini. L'immagine di prima del centro d'accoglienza del Baobab ne è il classico esempio. Io invito il Ministro Alfano, invito il Presidente del Consiglio Renzi a prendere quei 3,3 miliardi di euro che sono stati regalati alle cooperative sociali per gestire il fenomeno dell'immigrazione clandestina e metterli sulla sicurezza, altro che 50 milioni che vorremmo vedere, che vedremo se verranno messi, o 150 milioni di euro per la sicurezza. Il nostro Paese è a rischio sicurezza. 3,3 miliardi di euro che vengono tolti dall'immigrazione clandestina e vengono messi per garantire la sicurezza. Sentiamo Castaldini.